Sta per iniziare un viaggio esclusivo nei meandri del grande fratello. Oggi, vi porteremo nel cuore pulsante della casa, dove Massimiliano Varrese si è trovato al centro di un turbine emotivo. Avete mai immaginato il volto nascosto di Varrese lontano dai riflettori? Seguiteci in questa esplorazione unica e non dimenticate di lasciare un like e iscriversi al canale per ulteriori scupa vincenti. Nelle ombre di una notte carica di tensione, abbiamo assistito a una vera e propria tempesta emotiva di Massimiliano Varrese. Tra le polemiche con Beatrice Luzzi e i dubbi che lo tormentavano, Varrese si è trovato a un bivio cruciale. Visualizzate le luci spente del GF, il silenzio interrotto solo dai suoi passi verso il confessionale. È stata una lunga notte di introspezione e decisioni, dove il confine tra restare o abbandonare sembrava sfumare. Secondo Venza e Marzano, gli autori hanno giocato un ruolo chiave per mantenere Varrese nella competizione. Ma voi, come avreste agito in una situazione simile? Condividete le vostre opinioni nei commenti e ricordate di attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Ma la storia non finisce qui. In un lampo di lucidità, Varrese si è apertamente scusato per le sue azioni. Queste parole, cariche di un peso emotivo inaspettato, hanno svelato una faccia vulnerabile dell'attore, solitamente sicuro sotto i riflettori ma disorientato nel caos del reality. Un momento di verità che ci spinge a interrogarci. Fino a che punto possiamo distinguere la recitazione dalla realtà? Credete che le scuse di Varrese siano sincere? Questa è la domanda che vi lasciamo. Esprimete le vostre opinioni e non dimenticate di lasciare un like per supportare il nostro canale. Riuscirà Varrese a riconquistare l'affetto del pubblico dopo queste sorprendenti rivelazioni? Aspettiamo con trepidazione di scoprirlo. Una cosa è certa, le vicende del Grande Fratello vanno ben oltre il semplice intrattenimento. Sono un'esplorazione delle complesse sfumature dell'animo umano. Lasciate un like e iscrivetevi per restare sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo del Grande Fratello.